alessandro battagli in città vostra beh insomma con te non è che bisogna tanto far presentazioni i grandi appassionati di sport e di rally soprattutto ti conoscono alla grande la prima domanda scusa mi permetti ma è mia a che situazione sei continui con il rally faccio ultimamente sto facendo più pista che rally penso che quest'anno farò anche qualcosa di rally l'ultimo rally ho fatto al motor show e andiamo bene ci divertiamo adesso corro in pista quindi è bello insomma il mostro che piloti guido una macchina un po strano la kreiser c300 un giocattolino da 600 cavalli facciamo delle gare abbastanza importanti anche all'estero quindi per ora va tutto bene speriamo continui bene sembrerebbe una domanda da appassionato lo è però è anche una domanda dove pone un interrogativo tu sei abituato a correre al limite cioè proprio lo sport che pratichi sei sempre al limite a un certo punto tu sai che rischi molto però c'è un limite con cui non è con cui poi dopo stai attento non non prevali quel quel limite questa è una regola dello sport la regola sport appunto sapere andare al limite però senza passare il limite quindi devi sapere quello che fai e non oltrepassarlo una cosa molto importante quindi lo sport ti insegna questo e vedo che molte persone che fanno sport sanno essere diciamo sanno autodisciplinarsi ed è una cosa molto importante si parla di regole di sport che potrebbero essere comunque condivise con le regole di una civis di una città abbassando la grappa sta soffrendo molto specie di un turismo chiamiamolo così tra virgolette permettimi il turismo che secondo me non c'entra molto sul fatto che comunque ci sono molti vandali la gente tante volte spesso eccede nel bere e quindi si comporta in maniera assolutamente becerà lungo il brenta sulla parte destra che un posto meraviglioso ma anche sulle tre piazze su questo salotto ecco cosa si può fare per cominciare a selezionare un vero turismo o comunque della gente che venga in passeggiata a bassano e andare con il rispetto del salotto che non è casa tua ma è casa degli altri anche casa degli altri guarda è uno dei motivi per cui mi sono messo in lista perché vorrei aiutare il comune a rendere il centro migliore il centro di bassano è una cosa bellissima diciamo è un piccolo salotto in cui vede la gente stupenda della gente che si ritrova il bello di stare insieme chiacchierare eccetera però a volte diventa una cosa assurda per dei vandali per delle persone che si comportano malissimo perché si ubriacano non capiscono più quello che fanno perché io vivo vicino a ponte vecchio e vedo delle situazioni delle realtà assolutamente indescrivibili e tutto questo vorrei poter fare qualcosa per cambiarlo perché così non va bene io non voglio demonizzare i bar che ci mancherebbe altro perché giustamente fanno il loro lavoro mi piacerebbe forse che condividessero un po di più quello che la parte educativa però ci sono anche tanti giovani che comprano alcolici nei supermercati e poi dopo bevono in centro e quindi anche la se c'è una una sensibilità particolare ad andare fuori di testa si adesso non è che possiamo dalla colpa assolutamente di basso che è vero che tante volte arrivano già forniti di alcol dal supermercato tutto di sicuro il colpo d'occhio del barista sarebbe una bella cosa quindi non pensare solo a vendere ma anche cercare di capire chi sta andando oltre di guardano non ti posso più guarda bere anche questo potrebbe essere importante importante la collaborazione di tutti importante anche però che ci siano delle forze dell'ordine presenti che non abbiano paura di sanzionare perché alla fine chi distrugge il centro come qualsiasi altra parte distrugge un bene di tutti e tutti i cittadini purtroppo devono spendere per mettere a posto ciò che pochi vandari fanno quindi è giusto che queste persone paghino secondo te si vive male certi periodi dell'anno bassano di sera quando sarà tardi soffrono i cittadini sicuramente soffrono perché purtroppo c'è la gente che non ha rispetto urla ne fai tutti colori ho visto gente spaccare bottiglie per terra tutte la mattina scendi giù da casa ti trovi delle cose per terra che dici non so vedi io stesso visto gente che va urinare dentro gli androni delle case non riesco neanche capire come si faccia ad avere così poco rispetto del primo del suolo pubblico e anche delle case private eccetera quindi vorrei tentare ti ripeto di far qualcosa per questo non è facile però provarci dal tuo punto di vista soprattutto anche come esportatore di sport sei uno sportivo di regole oggi c'è un grave dramma che è quello dell'alcolismo giovanile nel 2018 nei parametri europei siamo completamente fuori la prima causa di morte giovanile saranno proprio gli incidenti del sabato sera un eufemismo perché oramai sono spalmati in tutte le giornate questi si può fare qualcosa anche a livello così mediatico guarda io lavoro da molti anni come istruttore di guida sicura sto facendo un lavoro abbastanza intenso anche quest'anno faccio istruttore per i disabili queste cose qua e quindi sarebbe proprio una cosa importante riuscire a educare i giovani io ho la fortuna che quando faccio questi corsi sono giovani che prettamente sono rivolti mentalmente allo sport e quindi hanno una mentalità già adulta anche se sono giovani bisognerebbe riuscire a far capire alle persone quanto è importante a volte secondo me si dimenticano quanto è importante la loro vita stessa e soprattutto se tu vuoi farti del male non coinvolgere delle altre persone quindi tutte queste cose qua forse bisognerebbe ripartire dall'educazione civica a scuola e tentare di migliorare una cosa molto difficile noi ti facciamo un in bocca al lupo e speriamo che tutto possa andare esattamente come nelle tue previsioni che tu possa dare un contributo importante anche per questo che è un fatto molto molto di attualità è molto grave grazie per essere stati con noi grazie a te ciao